biscotti a cuore friabili con un cuore di marmellata di fragole in una ciotola aggiungiamo l'uovo e lo zucchero aggiungiamo un pizzico di bicarbonato e la vanillina versiamo il latte di riso l'olio di riso e mescoliamo l'olio di riso possiamo sostituirlo con l'olio di semi che preferiamo aggiungiamo la fecola di patate la farina 00 oppure la farina di riso per realizzarli in versione gluten free mescoliamo e lavoriamo l'impasto fino ad ottenere un panetto morbido stendiamo la nostra pasta frolla dello spessore di circa mezzo centimetro con un tagliabiscotti a forma di cuore ritagliamo i nostri biscotti sistemiamo i biscotti sulla teglia da forno ricoperta di carta forno portiamoli a cuocere in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 10 minuti circa una volta cotti facciamoli raffreddare dopodiché aggiungiamo al centro la marmellata di fragole ed eccoli qui i nostri biscotti a forma di cuore pronti per essere gustati